Cari amiche e cari amici di Barba Sofia ho lasciato passare alcuni giorni prima di commentare con voi l'episodio della studentessa di medicina di Caserta che durante l'esame in chiaramente didattica a distanza esplosa a piangere in seguito al rimprovero e all'umiliazione a suo dire del professore e tutto ciò ha scatenato chiaramente una discussione nazionale perché perché il tutto è stato ripreso abbiamo un video con la studentessa che piange che chiede al professore di non essere così cattivo con lei di non umiliarla e abbiamo durante questo video l'intervento della madre io vi propongo tre riflessioni prima riflessione la didattica a distanza gli esami a distanza sono il male minore in questo periodo di pandemia sono comunque un male perché si vengono a creare situazioni chiaramente spiacevoli di tensione di limitazione anche della della mobilità ma anche della crescita delle persone della maturazione delle persone perché ci si chiude in casa la casa crea forti anche depressioni chiusure ci si chiude in casa dentro l'ambiente comunque familiare dentro quelle quattro mura che spesso nascondono tanti disagi tanti non detto che poi esplodono problematica a distanza come momento passeggero speriamo deve prevedere la responsabilità di tutti in modo prevedere i genitori non è pensabile non educativo che durante un'interrogazione sia essa le superiori sia essa più che mai l'università ci siano genitori padri e madri dietro la porta ad ascoltare l'esame perché perché è importante che lo studente o la studentessa crescano gli studenti crescano proprio confrontandosi anche con l'autorità l'autorevolezza della scuola dell'università o con la non autorevolezza o con l'autorità assolutamente magari cieca sciocca stupida delle istituzioni scolastiche ma fa parte della crescita della persona dello studente la studentessa non ci si può anche in questo caso non puoi nascondere dentro una dimensione protettiva familiare la mamma doveva stare fuori lontana fuori dalla stanza non origliare parliamo una studentessa di medicina neanche neanche al primo anno non è possibile che ci sia la madre dietro ovviamente con la madre dietro c'è perché la ragazza probabilmente è una fase di sofferenza di crisi probabilmente di sofferenza e crisi per la presenza della stessa mamma per le persone non sappiamo tutte queste cose e non dobbiamo pertanto permetterci di giudicare lo stato d'animo della ragazza o della famiglia entrando nel particolare però una cosa la possiamo giudicare i genitori devono fare un passo indietro poi si prenderanno cura dei figli è giusto che si preoccupino che la madre e il padre stiano male soffrono con il ragazzo e la ragazza ci sono difficoltà ma non questa bolla dentro cui vanno chiusi i ragazzi e le ragazze non questo vattatura non questa apprensione non questa ultra protezione altrimenti non si cresce non si cresce mai dunque la mamma sbagliato ad essere lì presente nel tempo di essere una chioccia nel tentativo di proteggere la figlia un passo indietro durante le interrogazioni durante le verifiche durante le lezioni quando si è in didattica a distanza torniamo il prima possibile a scuola torniamo il prima possibile in presenza vacciniamoci in modo tale da tornare a una vita normale in questa vita normale poi ci sono delle difficoltà di un di altro tipo ma questa chiusura forzata sta parlando molte persone veramente nel baratro di micro macro depressione secondo aspetto la ragazza è impreparata la ragazza è chiaramente impreparata impreparata perché emotiva perché non ha studiato perché si è agitata perché era un momento perché quella non è la sua facoltà ma la sta facendo per qualunque motivo la ragazza si è dimostrata impreparata e pertanto è giusto che la ragazza venga bocciato che venga segnalato la ragazza lì in preparazione deve ritornare a studiare e tornare a fare appunto un percorso di studio di ripensamento complessivo magari del suo percorso di quel singolo esame è giusto che il professore valuti giudichi ma in che modo terzo punto ragazza si è messa a piangere probabilmente fragile vogliamo l'asciuto fragile depressa inadeguata impreparata ma il professore può anche non abbandonarsi a queste scene di insulti è vero l'errore che fa le cellule che ancora si dividono c'è un processo cellulare quando un corpo è morto l'errore è grave l'errore è grave e il professore ha perso le staffe però sei un professore sei un docente e come tale devi cercare anche di mantenere il controllo se ti scappa la pazienza se perdi la pazienza a un certo punto calmarti dire due parole anche di conforto la ragazza nel bocciarla va bocciata la ragazza mai quello strumento la bocci signorina non è preparata commesso un errore molto grave e ritorno la prossima volta io avrei evitato lei va a fare il medico ammazzerà ammazzerà delle persone non so se questo è un errore grave che dimostra ignoranza non so poi quello è un errore che porta alla morte delle persone perché la materia era comunque teorica non erano in sala operatoria non penso che poi in una vera analisi una malattia pensa che le cellule continuano i loro processi vitali quando un corpo è morto ci sono tanti fattori che avranno porto una ragazza sbagliare una ragazza chiaramente fragile magari non è il suo percorso di studi ci sono altri strumenti si chiama bocciatura si chiama dire la ragazza non sei preparata studentessa ritornerà deve ritornare si prepari meglio l'errore che ha fatto è molto grave può anche dire mi sembra strano che giunto questo percorso i suoi studi commetta ancora questo errore perché perché altrimenti non serve nulla quella sfuriata non serve nulla hai perso la pazienza devi rientrare perché hai degli strumenti e gli strumenti comunque educativi anche se sei un professore universitario e questo è stato l'errore il tutto chiaramente condito da una sorta poi di ormai candid camera permanente in cui siamo immersi perché tutto questo non sarebbe mai successo senza la preponderanza dei video delle dei canali dei social della rete del fatto che ormai ha oltre il grande fratello qui siamo di ormai tutto filmiamo tutto registriamo tutto mettiamo in rete però per mettere tutto in rete serve anche poi la dignità e molte persone non hanno dignità perché per quello deve rimanere all'interno hai avuto filmare perché hai paura che tua figlia fosse umiliata l'avete registrato l'avete filmato salvato diffuso per quale motivo per vedere che il professore romani goldo che l'umiliava che era insensibile per dimostrare la fragilità della ragazza ma tutto questo ha aiutato la ragazza no a me sembra che alla fine tutti non entrino dentro il problema il problema è la ragazza separata si boccia prima ragazza fragile deve avere un percorso magari depresso in questo momento magari si è chiuso in se stessa magari se invece non ha studiato ma se il fine è valutare preparare correggere questa modalità è completamente sbagliata sia la modalità modalità della madre ultra protettiva veramente al limite del patetico o anche del del dell'invasivo proprio ma anche a motiva del professore questa furia a un certo punto cieca questo fiume in piena di 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 disgusto rispetto all'impreparazione e alla fine la vittima anche se l'impreparata so che molti di voi diranno ma lei preparata zucchona caprona la vittima alla fine la ragazza la quale non sarà preparata magari una zucchona caprona non lo so non siamo noi doverlo giudicare ma alla fine la madre con questa modalità ha fatto il male della ragazza il professore non ha fatto il bene la sostentessa andando giù così pesante la ragazza si trova adesso con tanti cocci perché il suo volto perché la sua credibilità che può ancora riprendere perché la vita non è mai una non è una parola fine ma in questo momento la sua credibilità il suo volto la sua vicenda sulla bocca di tutti bisogna adesso recuperare tanti cocci fatto l'errore speriamo almeno che i protagonisti provino a riparare al danno prodotto